Com'è tornare in Italia, in questo palazzetto, con tutto il tipo per te, come stanno? È stato bellissimo, ero emozionata, credo che si sia visto, sono veramente felice, comunque ero stupendo e non vedo l'ora di proseguire il percorso che abbiamo iniziato oggi. Avete cominciato anche con la bella vittoria? Sì, sono molto contenta, questo era quello che ci aveva chiesto Mart, quindi siamo felici, continueremo a lavorare e a creare la nostra chimica, che ci sono felici. Questo è i capelli biondi? Così, cambio look, stravolgiamo un po' le cose. Hai già parlato con Giuditta? Sì, 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 avevo chiacchierato, non mi è murato, me lo vale! Non era la fine. Grazie.